Non si arrestano gli episodi di furti di sabbia con chili e sassi dalle spiagge della Sardegna da parte dei turisti. L'ultimo dato arriva ad Alghero, dove all'aeroporto Rivera del Corallo fra il 15 giugno e il 15 luglio sono stati sequestrati ben 50 chili di materiale in diverse operazioni compiute dai funzionari doganali assieme ai militari della Guardia di Firenza della Compagnia di Alghero e in collaborazione con il personale della Sogeal Security. Un fenomeno di malcostume ormai dilagante, nonostante le continue campagne informative e di sensibilizzazione sul problema, volte a evitare il depauperamento dei lidi isolani. Il sistema di trasporto più gettonato rimane quello della bottiglia di plastica occultata nel bagagliaio, meno spesso un sacchetto o una scatola, a volte addirittura grossi sassi gettati in mezzo a magliette e pantaloni. Come se per provare di aver trascorso una vacanza in Sardegna sia necessario procurarsi un souvenir da esporre magari in salotto. Peccato che tutto questo sia un reato in base a una legge regionale del 2017. Infatti gli autori degli illeciti sono stati sanzionati per importi fra i 500 e 3.000 euro. Le loro nazionalità sono risultate le più disparate, oltre a tanti italiani, anche norvegesi, slovacchi, serbi, spagnoli e rumeni. Secondo l'associazione di volontariato Sardegna Rubata e Depredata, ogni anno nei porti ad aeroporti dell'isola vengono requisite 5 tonnellate di materiale asportato dalle spiagge.